L'ospedale Valduce ha un nuovo direttore sanitario. Dal 1 gennaio prossimo Claudio Zanon sarà sostituito da Riccardo Bertoletti, che attualmente ricopre lo stesso incarico alla SST di Mantova. La notizia è stata ufficializzata dalla procuratrice speciale Mariella Enoch e dalla congregazione delle suore infermiere della Dolorata, a cui appartengono l'ospedale Valduce di Cuomo e il presidio riabilitativo Villa Beretta di Costa Masnaga. Il comunicato dell'ospedale arriva pochi giorni dopo le dichiarazioni dello stesso Zanon sulla situazione critica del presidio di Via Dante per l'impennata dei pazienti Covid. L'ospedale è vicino al collasso, aveva detto Zanon, mentre la stessa Enoch aveva voluto precisare la situazione è difficile, ma facciamo tutto quello che possiamo e curiamo tutti, non serve creare panico. Il nuovo direttore sanitario prenderà servizio il prossimo 1 gennaio. L'avvicendamento era programmato e concordato da tempo e avverrà a partire dal 2021, si legge nella nota della direzione del Valduce. La congregazione ringrazia Claudio Zanon per la proficua collaborazione prestata e il lavoro svolto in questi anni. Parole ricambiate da Zanon, sono stati anni belli e intensi, dice il direttore sanitario uscente. Ringrazio Maria Laeno che è la congregazione di avermi dato questa possibilità e gli operatori del Valduce e di Villa Beretta, professionisti di alto livello e grande umanità con cui ho lavorato benissimo e nella massima sintonia. Spero di essere stato utile a Como e ai Comaschi. Mi dedicherò al progetto motore sanità di cui sono direttore scientifico, conclude Zanon. L'ospedale Valduce mi resterà comunque nel cuore.